Ciao a tutti ragazzi sono Stefano Castiello e benvenuti anche oggi in un nuovo video voglio subito aggiornarvi con quello che è successo col prezzo di MM Finance perché sono giorni che continua a scendere e voglio soprattutto dirvi cosa sto facendo con i miei token e cosa mi aspetto voglio anche aggiornarvi con Tonic e Tectonic soprattutto poi anche col prezzo di CRO perché si sta formando un pattern abbastanza interessante adesso davvero iniziamo subito però prima di iniziare per supportarmi e sopportarmi con questi video che faccio ormai ogni giorno lasciate un bel mi piace e se non siete iscritti per rimanere aggiornati iscrivetevi al canale ora iniziamo subito per quanto riguarda la situazione generale non è delle migliori in questo momento Bitcoin è su 40.000 dollari Ethereum sul livello dei 3.000 dollari ed è importante come al solito non scendere sotto questo livello dei 39.000 dollari perché in quel caso come ho detto già ieri potrebbe essere negativo per il prezzo di Bitcoin e nel mio aspetto anche i 35.000-36.000 dollari poiché già vi ho parlato di questo canale che si è formato però in questo video voglio aggiornarvi col prezzo di MM Finance perché sono giorni ormai precisamente questo qui è il grafico giornaliero quindi ogni candela raffigura un giorno è precisamente dall'8 aprile quindi recentemente che stiamo vedendo il prezzo di MM Finance correggere anzi crollare infatti abbiamo raggiunto l'all time high ad inizio aprile il 7 aprile con un 1.80 dollaro in questo momento che stiamo registrando ci troviamo a 0.88 centesimi di dollaro ma che è successo in molti me lo stai dicendo cosa stai facendo Stefano? che ti aspetti da MM Finance? secondo te il progetto è fallito? ragazzi assolutamente no vi dico subito che è successo sia la situazione del mercato che quella che è perché ormai tutte le criptovalute stanno perdendo tantissimi punti percentuali e questo lo vediamo anche tramite CoinMarketCap basta guardare Solana, Cardano, Terraluna che stanno perdendo ormai tantissimo però non è solo questo il problema che è successo? Crypto.com ha listato il token MMF tramite il proprio exchange e le persone vedendo il token listato su Crypto.com hanno deciso di uscire dal progetto vendendo e traendo profitti questo perché? perché prima per scambiare il token MMF bisognava semplicemente non semplicemente fare operazioni più complicate non c'era un vero e proprio exchange che permettesse questo invece in questo momento tramite l'applicazione che tutti possiamo utilizzare dal nostro smartphone in pochissimi passi in semplici passi possiamo diciamo vendere questo token e quindi ragazzi tante persone ripeto che sono uscite dal progetto traendo i loro profitti è giusto anche questo ovviamente ci sono tante persone che hanno investito quando il prezzo era bassissimo non appena hanno visto il prezzo di MM Finance esplodere hanno deciso di vendere per questo ripeto vediamo il prezzo continuare a scendere però io vi dico che secondo me vedere il prezzo di MM Finance scendere ancora di più io sono pronto ad accumulare mi dite perché se pazzo potrebbe falire il progetto assolutamente no perché se andiamo sul DeFi Lama vediamo che Kronos è una chain molto giovane e si trova all'ottavo posto tra tutte le chain più importanti come ad esempio Phantom, Solana, Polygon Terra, Luna Ethereum che è al primo posto ovviamente quindi trovarsi già l'ottavo posto anche sopra Tron ed è una chain che è nata da pochissimo tempo questo mi fa bene sperare per tutti i progetti che sono all'interno se noi andiamo su Overview in alto a sinistra poi scegliamo la rete Kronos vediamo poi che al primo posto tra i progetti più importanti col Total Value Locked più alto abbiamo MM Finance al secondo posto WWS che è uno dei primi progetti che è nato al terzo posto Tectonic quindi questo ci fa capire ragazzi che comunque MM Finance ha un futuro incredibile si trova anche al primo posto per il TVL Total Value Locked Rankings insieme a tantissimi altri progetti sempre della Kronos Chain che sono importanti questo mi fa ben sperare ovviamente sono super bullish sempre per MM Finance e quindi se il prezzo dovesse continuare a crollare anzi da una parte spero che continui a crollare così sono pronto subito ad acquistare se dovesse realmente toccare il livello degli zero qui del ritracciamento dei Fibonacci che abbiamo toccato all'inizio gennaio potrebbe essere un ottimo momento per accumulare attenzione non sono consigli finanziari in base ai miei studi ci credo tantissimo credo nel progetto quindi vedere una ripresa per MM Finance per il futuro è poco ma sicuro ho fatto anche la rima comunque cosa importantissima adesso visto che MM Finance è disponibile anche su Crypto.com per chi volesse registrarsi a questo exchange tramite l'applicazione c'è un link qui in basso in descrizione è il mio link personale avete anche un bonus di 25 dollari come al solito che vi permette di ricevere 25 dollari in crow e quando mettete in stake minimo 350 euro per la carta rossa che ha tantissimi vantaggi come Spotify gratis e cashback riceverete questo bonus in crow detto questo per quanto riguarda invece crow volevo mostrarvi questo pattern interessante che si è creato se prendiamo il grafico daily quindi ogni candela come al solito corrisponde un giorno vediamo il prezzo che si sta stringendo sempre di più in questo canale e se riuscissimo a rompere questo canale in modo bullish il prezzo potrebbe raggiungere anche le resistenze che mi ho sossegnato precedentemente degli 0,50 e 0,54 quindi ragazzi speriamo tanto che il mercato si riprenda e che crow rompa questi livelli in modo bullish per quanto riguarda invece tonic in questo caso sempre prendendo il ritracciamento di fibonacci siamo sul 78% e quando abbiamo toccato questo supporto recentemente l'11 marzo il prezzo è rimbalzato quindi che mi aspetto mi aspetto che tonic possa di nuovo raggiungere questo livello qui che abbiamo raggiunto l'11 marzo e mi aspetto un rimbalzo se il mercato dovesse riprendersi ovviamente invece potremmo continuare a scendere e toccare anche dei livelli bassissimi ma anche in questo caso visto che tonic comunque è un progetto che va molto bene sulla chronos chain mi aspetto per il futuro tante cose positive adesso passiamo a WWS invece la situazione non è delle migliori abbiamo visto tantissime oscillazioni però se seguite WWS tramite twitter vedete che stanno facendo di tutto per far riprendere il progetto e anche in questo caso si trova i primi posti tra i progetti della chronos chain in questo momento mi sento di dirvi che il progetto che farà cose positive per il futuro il miglior progetto è quello di MM Finance guardiamo il bitcoin fear e un grid index siamo al numero 22 quindi in estrema paura e quando siamo in estrema paura al numero 20 al numero 15 al numero 10 è sempre un buon momento per acquistare secondo quest'index già ve ne ho parlato spesso anzi tutti i giorni ve ne parlo perché lo reputo importantissimo in passato ho riuscito a farmi fare ottimi affari cosa non è importante seguitemi anche tramite instagram questo qui è il mio profilo ufficiale attenzione profili finti i miei unici profili veri che sono quelli di instagram oppure telegram sono qui in basso in descrizione oppure nei commenti pinnati non fatevi rubare dai profili finti perché vi chiedono soldi e vi rubano tutto state molto molto attenti a cosa importante ieri vi ho parlato di margex in molti mi avete chiesto Stefano ma è solo in inglese assolutamente no in alto a destra c'è possibilità di scegliere tantissime lingue tra cui fortunatamente anche l'italiano per chi non sapesse l'inglese tramite il mio link c'è anche possibilità di avere degli sconti sulle commissioni ma in molti mi avete chiesto Stefano cosa è la leva che significa aprire trade long e trade short è davvero semplicissimo e soprattutto tramite margex è ancora meno complicato del solito perché tramite margex abbiamo questa schermata che è semplicissima a sinistra possiamo aprire trade long e trade short aprire trade long perché diciamo che scommettiamo che il prezzo che in questo caso dei bitcoin possa salire quindi noi mettendo una leva per 5 e mettendo ad esempio un 25% della nostra somma che vogliamo utilizzare per aprire questo trade andiamo a moltiplicare per 5 per 10 per 40 fino a per 100 il nostro budget sono dei soldi che ci dà in questo caso margex ci vengono prestati e nel caso in cui questa posizione però va male noi mettendo uno stop loss non perdiamo tutto quello che abbiamo investito però attenzione perché se non mettiamo gli stop loss possiamo essere liquidati e perdiamo tutta la somma che abbiamo utilizzato per fare trading quindi state super attenti i stop loss sono fondamentali lo dico sempre e la stessa cosa vale per vendere short cioè noi vogliamo scommettere che il prezzo di bitcoin scenda e in questo modo scommettendo che il prezzo di bitcoin scenda i margex ci darà poi delle ricompense quando il prezzo di bitcoin scenderà è davvero molto semplice e possiamo applicare anche in questo caso una leva fino a per cento e come al solito ragazzi il link per farlo è qui in basso in descrizione e la cosa super positiva di margex che è uno dei pochi che permette di fare ciò è che non c'è bisogno di verificarsi tramite il know your customer cioè il famosissimo kick quindi vi scrivete con email password depositate iniziate a fare trading e sono cavoli vostri quello che succede non vi chiedono il documento la bolletta come ad esempio binance oppure bybit grazie mille a tutti per la visione di questo video se vi è piaciuto lasciate un bel mi piace per supportarmi se non siete iscritti per rimandere aggiornati 24 ore su 24 su tutto quello che pubblico iscrivetevi al canale noi ci vediamo domani con la prossima avventura ciao a tutti ragazzi ciao a tutti